c'era si aspetta 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 anche però la palla raso a terra ha preso un giro strano si è impennata eccola la adesso si è alzata e poi si adagia piano 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 eccola la che va adesso stranamente si rialza e si abbassa piano piano rimane lì aspetta ah no aspetta ferma adesso un guizzo finale si è alzata il cameraman la stoppa tranquillamente spero che ora sia finita inizio a filmare non voglio vedere amici non voglio vedere no e devi dirmelo scusate è un inconveniente scusate dai vai occhio mamma mia si dai vai occhiotti te la tiro su e mi si devo stoppare la palla altissima la sta ricorrendo allo stesso giocatore che l'ha lanciata la riprende il volo che fenomeno prima mi sono scordato di dire che l'ha chiamato pure l'albinoleffe ora intervista intervista cosa ha provato in quei momenti punta Anita dove è Anita? non vedo Anita palla rosa palla rosa dove Anita? non vedo niente la nostra maglietta bianca azzurra bianca che sembra è il nostro obiettivo Anita ti amo Anita ti amo io pulto Anita eh filma me filma me secondo me perché la bambina è sovrappicata miro Anita? eh? Anita lo vedo ora tu tiri poi vai da la e io da lì vicino prendo Anita in testa dimmi oh ora io devo scusa scusa bimbo bimbo me che c'era te ora il giocatore si appresta il tiro vai se ha niente da casa blanca per una prima operazione ahahah che c'era che c'era che c'era che c'era